Ciao a tutti, quarta diretta del 2020. Oggi è 20 gennaio 2020, 20 gennaio 1920. Oggi Federico Fellini, il grande maestro, avrebbe compiuto 100 anni. Sulle televisioni, sugli organi di stampa principali, tradizionali, anche sul web, in radio, sentiamo celebrazioni di tutti i tipi. Io ovviamente non posso che essere contento di fare gli auguri al maestro, che ho avuto anche l'onore e il privilegio di conoscere nel 1992, poi vi dirò perché. Quindi innanzitutto, tanti auguri in cielo, maestro Federico Fellini, insieme alla tua Giulietta. Ho riflettuto tanto su quello che si dice e quello che si fa su Federico Fellini. Ricordare sempre bene, soprattutto per le nuove generazioni. Però, attenzione, legioni di personaggi che si riempiono la bocca con Federico Fellini, senza saperne niente, parlano a sproposito del maestro. Non è una cosa corretta, non è una cosa bella, soprattutto per i giovani, perché così non insegniamo niente di Federico Fellini ai giovani. Cosa c'è da insegnare su Federico Fellini, mi dite Emanuele Cariodi? A vedere i suoi film. Non dobbiamo vedere legioni di persone che si riempiono la bocca con cotillon e fanno brindisi e parlano di Federico Fellini, dicendo quanto è bravo, senza saperne niente. Sono pochi, pochissimi deputati. Non lo sono neanche io. Io sono un cronista che ho avuto l'onore e il privilegio di conoscere persone vicine a Fellini. E ho raccolto le loro testimonianze. Posso sentire sordi su Fellini. Guardate l'intervista a sordi su Fellini. Guardate l'intervista a Antone Quinn su Fellini. Ho avuto un grande privilegio nel 94-95 e c'è di intervistare una meravigliosa signora che si chiamava Maddalena Fellini e era la sorella che ha raccontato Federico Fellini, mio fratello. E allora vi dico una cosa, e questa me l'ha insegnata Alberto Sordi. Fellini si può imparare non solo parlandone, facendo feste, facendo manifestazioni e auguri in cui sono sempre gli stessi invitati. Ormai li conosciamo, quali sono. Sono molto più grandi di me, poi, tra l'altro. Io non sono un ragazzino. Sono 31 anni che sto quest'anno nell'ambiente. Eppure sono sempre gli stessi e le stesse. Sempre gli stessi e le stesse. Che magari non so neanche quanti film di Fellini hanno visto. Perché non ne parlano. Allora, se li avete visti, Fellini, cercate di dare questo consiglio alle persone. Guardatevi i film di Fellini. Guardatevi Prova d'orchestra. Guardatevi La Dolce Vita e tanti altri. Le prime sperimentazioni. E guardatevi gli ultimi spot. L'unica cosa che è stata concessa a Fellini di fare nel 1992. Perché non è stato facile per Federico Fellini realizzare il suo ultimo sogno. Anzi, non l'ha realizzato. Il Mastorna. Chissà di quel progetto sa di cosa parlo. E non l'ha realizzato. Cosa realizzò Fellini all'ultimo momento? Tre spot pubblicitari meravigliosi. Sul concetto principale della sua arte, della sua filmografia, del suo modo di fare cinema. Il sogno. Interpretati ovviamente da Paolo Villaggio e tanti altri brevi attori. C'era anche Fernando Reis, se non sbaglio. E tanti altri attori. Tanti altri. Non erano tanti. Io andai su set. Perché? Perché lo feci la banca di Roma. Ma quelli spot furono venuti da una banca e da alcuni visionari, dirigenti di banca che allora erano a capo del del marketing. Lo so che può essere una una parola brutta. Però hanno consentito di far lavorare Federico Fellini ancora una volta. Laddove il cinema dopo il 1990 se non sbaglio l'ultimo film l'aveva quasi abbandonato. e quindi ricordiamolo e vediamolo e soprattutto e soprattutto ricordiamo che fu importantissimo l'intervento del presidente Andreotti affinché Fellini realizzasse questi spot. Pochi lo sanno ve lo dico io perché ho avuto contatto spero che vi fidiate di me ma credo di sì perché ho avuto contatto con persone che hanno realizzato quel progetto ce l'ho il contatto con persone che hanno realizzato quel meraviglioso progetto di quello spot Anna Falchi una bellissima Anna Falchi c'era vi ricordate? Tutt'ora bellissima ma qual è il principio oggi che voglio dirvi a tutti quanti? Viva Fellini auguri maestro ti ricordi? C'era 20 anni e venivo sul set ci sono delle foto era era quasi un mito no? questo cappottone il cappello sentite Alvaro Vitali l'intervista che ho fatto Alvaro Vitali su Fellini Alvaro Vitali è molto è molto approfondito il 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 discorso che fa Alvaro Vitali su Fellini o anche tante tanti altri personaggi che ho ma che sono deputati a parlare non persone pseudocritici cinematografici esperti cinematografici ce ne sono molto buoni eh anzi sono la maggior parte ma tanti li vedo partecipare a Brindisi sia auguri a Fellini di qua di là cose mondane no 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 vedete i film di Federico Fellini soprattutto i ragazzi guardateli cercate di capire cercate di far suscitare delle emozioni di amore di odio di sentimento di disprezzo di simpatia antipatia di sogno ma guardateli studiateli riguardateli a distanza di un anno dall'altro o da un decennio dall'altro come ho fatto io a me inizialmente io mi ricordo mi ricordo nel 90 quando ho iniziato l'università con il professor Orio Caldiron vedi dei film di Fellini l'avevo già visto l'avevo visto solo la dolce vita e vedi pure proprio l'orchestra che non mi convince poi nel 2011 o 12 feci uno studio approfondito su provo d'orchestra e ritengo che sia un capolavoro ma l'ho capito vedete i film di Fellini non celebriamo solamente i cento anni di nascita del maestro che domani ce li scordiamo domani 21 gennaio ce li siamo scordati continuiamo a vedere a programmare sulle televisioni nazionali e ai cinema che sono rimasti magari i film di Fellini vediamo i film di Fellini giovani vedete i film di Fellini tanti auguri maestro ciao a tutti